Calano gli infortuni ma aumentano le malattie professionali. Alla vigilia della 74esima giornata nazionale per le vittime del lavoro, l'ANMIL provinciale traccia un bilancio, numeri alla mano, di come sta andando in provincia di Arezzo il fenomeno. Il tema appunto delle malattie professionali, sicuramente meno denunciate rispetto agli infortuni, è centrale per l'aretino. Nel nostro territorio, nel periodo gennaio-luglio 2023-2024, gli infortuni sono calati del 4,1% per un totale che supera i 2.300 infortuni, mentre in Toscana sono aumentati dell'1,6%. Alta invece la percentuale di malattie professionali denunciate proprio nell'aretino, 760 nell'ultimo periodo di riferimento con un aumento del 23,6%. Tra le attività di ANMILAREZO, quella di portare nelle scuole le testimonianze di coloro che hanno pagato a caro prezzo un incidente sul lavoro. Una disattenzione, un gesto abituale per questo sottovalutato, può cambiare la vita di un lavoratore in un attimo. Per questo l'Associazione preme sul tasto della formazione che va approfondita. C'è poi l'aspetto della tutela delle vittime sul lavoro e delle loro famiglie. A regolarla un testo del 1965, qui è opportuno un aggiornamento, evidenzia ANMIL, auspicando appunto che questo avvenga.